Bentornati al nuovo appuntamento con le pillole di A2x2 con DoiSfar Oggi è la volta della nuovissima Serie 5 K-Line, la macchina perfetta per ogni azienda agricola Piccole rature, preparazione del terreno, concimazione, semina, diserbo, trasporto, finagione sono solo alcuni degli esempi di ciò che può fare questa macchina 4 modelli da 75 a 106 CV con motori Far Motion 4 cilindri State 5 Il modello 75 raggiunge i limiti delle emissioni senza bisogno di urea Bello, potente ed aggressivo, la nuova linea del cofano e del frontalino riprendono quelle dei trattori più grandi donandogli un aspetto moderno e aggressivo Una linea moderna mantiene il valore del trattore nel tempo Perfetto per chi vuole una macchina semplice da usare ma senza rinunciare al comfort Perfetto per chi vuole massimizzare il suo investimento, ridurre i costi di esercizio ma avere specifiche al top Perfetto per chi vuole massimizzare il nostro bu fascino